ma che cazzo uffo il direct porco ma lo sta facendo sta accendo gigante è un oggetto volante sta scendendo un golfiero o qualcosa ma è gigante che sembra una luna è qui che scende guarda che non ci bisogna sentire con un mandrone con un mandrone grazie a tutti grazie a tutti